Nel frattempo c'è comunque stato un confronto con chi è intervenuto nello scorso dibattito, tant'è che sono stati prodotti da parte del Partito Democratico degli emendamenti che noi abbiamo voluto a nostra volta subemendare, con un solo ramarico che la nostra risoluzione è stata in qualche modo, voglio dirla così, depotenziata per quanto riguarda l'impegno, nel senso che noi chiedevamo in qualche modo di affrontare questa situazione che riguarda soprattutto il territorio di Bologna cercando di inserire all'interno degli impegni della Giunta una soglia minima rispetto al dialogo che c'è adesso in conferenza Stato-Regioni, che era secondo noi il modo per superare un impasse e permettere in qualche modo alle Regioni di applicare l'IRESA. IRESA che lo voglio ricordare è un tributo proprio regionale che va a favore del completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, del disinquinamento acustico e degli indennizi, che è ciò che sta chiedendo anche il Comitato che su Bologna sta intervenendo appunto sul Marconi e che vive sulla propria pelle i disagi legati all'inquinamento acustico. Su questo devo dire che mi sembra che questa Regione sia un po' restia a intervenire per quanto riguarda le questioni ambientali. Io poi personalmente mi sono occupata diverse volte dei siti inquinati, lì diciamo non è roba nostra, non ci investiamo neanche gli spiccioli. Qui che si parla di inquinamento acustico potremmo intervenire con l'applicazione di quello che è un tributo proprio della Regione con risorse certe e non lo facciamo. Gli emendamenti del PD noi comunque li vogliamo accogliere perché anche se sono briciole, però insomma finché si cerca di andare verso la tutela della salute delle persone, noi siamo appunto da questo punto di vista siamo dalla parte dei cittadini e quindi qualsiasi cosa, anche se piccola, va bene. Però io devo dire la verità, non capisco francamente oggettivamente quali siano le difficoltà ad applicare come Regione questo tributo perché lo ricordo velocemente il Marconi è un aeroporto che è in salute, ha aumentato il proprio traffico rispetto al 2016 del 23%, ha un utile netto del 7% raddoppiato rispetto allo scorso anno, abbiamo FICO con i voli che saranno in overbooking, quindi i turisti saranno anche felici di pagare un minimo di contributo in più per la tutela della salute pubblica e quindi francamente, devo dire, proprio oggettivamente non capisco il motivo per cui non potremmo intervenire già noi come Regione. Oltre però a questo c'è un altro paradosso che vorrei ricordare, che noi non applichiamo l'Iresa, che è un piccolo contributo agli aeromobili che si andrebbe a ripercuotere sui cittadini, ma per un obiettivo chiaro e certo che è quello di tutelare la salute pubblica. Dall'altra parte però abbiamo il Sindaco del Comune di Bologna che fa una richiesta al Governo insieme al Sindaco di Firenze che è quella di varare i decreti attativi di una legge che prevede una tassa di 2 euro a passeggero, concludo, per finanziare la città metropolitana o la ex provincia che volevate abolire e che invece avete affamato. Concludo dicendo con una notizia che il 2 di novembre abbiamo imparato dagli organi di stampa che la Regione Piemonte questo tributo lo vuole applicare dal primo di gennaio. Quindi l'auspicio è che anche l'Emilia Romagna lo faccia, noi siamo intervenuti e interveremo con un emendamento. Riproporremo la stessa proposta in sede di bilancio, avevamo una proposta di legge che però evidentemente non ci sono i tempi per discuterla entro la fine dell'anno, quindi interveremo in sede di bilancio. Mi permetto solo un secondo di leggere le dichiarazioni della Presidente della Commissione dei Trasporti della Regione Piemonte, che sarebbe la nostra Rontini piemontese, che dice che oggi la competenza... Consigliera Piccini, lei può intervenire dopo sugli emendamenti, ha altri dieci minuti, quindi la invito a concludere adesso e magari... Concludo velocemente. Ha fatto come Taruffi, ha già detto tre volte concludo, eh. Sì, però io solitamente non intervengo quanto consigliere Taruffi. Che dichiara la stampa, oggi la competenza è esclusiva della Regione e non c'è motivo per non applicarla, tanto più che esistono richiami formali dalla Corte dei Conti che invita tutte le Regioni ad applicarla appena incorrere nel danno erariale. Quindi è quello che chiediamo noi, cioè da un lato agire sulla conferenza Stato-Regioni per omogenizzare questo tributo a livello nazionale, dall'altro però chiediamo alla Regione di fare il proprio dovere e di intervenire nel frattempo che la conferenza Stato-Regioni deciderà da farsi. Grazie.